Questo è il momento delle nostre notti. Siamo faccia a faccia con il regno della notte. Ed è il periodo dell'insonnia. Forse scatta una paura ancestrale, antica. Sentiamo parlare di dolore, di disagi, di morti. E il sonno ci spaventa perché ci fa precipitare in uno stato di incoscienza, di annullamento. Cosa fare quando arriva l'insonnia di questo periodo? Per prima cosa mettere sul comodino un block notice. E dire che sogno mi regali stanotte, signora del buio? Quale sogno mi regali? Lo lasciate lì, senza neanche più pensarci. Poi, non si sta a letto quando c'è l'insonnia e ci si alza. Ci si alza e ci si veste. Come se dovessimo uscire con qualcuno. Con qualcuno che non sappiamo chi è. Può essere un'amica misteriosa. Un amico misterioso. Un'energia creativa che magari abbiamo messo da parte. Il miglior farmaco per l'insonnia è la creatività. Una penna in mano e si scrive una fiaba. Una penna in mano e si scrive un racconto. Non la propria storia, perché la propria storia ci riporta verso il passato. Se deve arrivare a trovarmi un amico, bisogna che preparo qualcosa per lui. Un tè, dei biscotti. Apparecchio la tavola. E crea uno stato interiore di attesa. Chissà chi verrà stasera. Ma la mia attesa non è di qualcuno che suoni alla porta. Magari dirà c'è il mio compagno o la mia compagna che dormono, ma è l'attesa di qualche cosa che venga dal profondo, dall'interno. L'anima, intesa nel senso della psiche, non si presenta mai all'esterno. Ma si presenta improvvisamente con una fantasia, con un'immaginazione. Intanto però la psiche non vuole che io bussi alla sua porta. Vuole sorprendermi. La psiche non vuole essere vista, contrariamente a quello che crediamo noi. La psiche vuole entrare piano piano nel mio mondo. Allora devo distrarmi. Devo distrarmi con delle azioni, come vi avevo detto prima, a scrivere, ma anche a disegnare. Leggere qualcosa che mi appassioni, come se io mi distraessi. Non vuole che io pensi all'insonnia, perché l'anima mi vuole tenere sveglia, o sveglio. Vuole che mi occupi qualcosa di cui non mi sono ancora occupato. ognuno ha qualcosa di cui non si è occupato. Ognuno ha nell'infanzia, per esempio, interessi che poi magari ha ignorato per anni e non sa che quegli interessi incombono. Sono un po' i germogli di una pianta, di un fiore che deve ancora nascere. Insomma, l'insonnia è un buon territorio per rinascere. Sto collocando me stesso o me stesso in un posto dove non devo aspettare il sonno, ma aspettare qualcosa che arrivi.